buonasera anche questa sera abbiamo guadagnato casa e domani mattina guadagneremo ancora il piazzale del j medical perché domani si annuncia un'altra giornata importante perché arrivano tutti i nazionali e arrivano cesni rabbiò bonucci locatelli 6 o 7 adesso non sto qua a delincarveli tutti e quindi si completa anche dell'ict ma ne vogliamo dopo si completa il gruppo il gruppo che già da due giorni lavora gli ordini di massimiliano allegri che si è presentato appunto ieri giorno di di maria oggi è stato il giorno di pogba però prima di parlare del giorno di pogba perché tanto avete già visto anzi no parliamo un attimo ancora del giorno di pogba perché poi quando è uscito e vi faccio vedere le immagini si è recato effettivamente a firmare autografi a fare selfie non tanto 3 4 minuti perché poi lo hanno costretto ad andarsene via c'era anche nella macchina raffaella pimenta la sua agente del gruppo minoraiola che lo aspettava quindi diciamo qualche tifoso è rimasto anche un po' soddisfatto pensate che c'era gente ho sentito di un padre e una figlia che era lì dalle due e mezza del mattino per prendere posto due e mezza allora c'è qualcosa di cui discutere anche in questo caso però c'era tantissima gente dalle 6 l'ho arrivato alle 10 è andato via è uscito dalle visite mediche dopo 5 ore e mezza 15 e 40 circa 5 ore 40 di visite mediche 5 ore 40 pausa pranzo ovviamente per carità un sacco di gente avete visto le immagini insomma un raduno o meglio un ammasso di folla nella top 3 diciamo numero 1 ronaldo numero 2 iguain quando arrivò numero 3 pogba lì davanti a j america tutte cose che ho visto con i miei occhi quindi vi posso garantire che sono andate veramente così ha firmato autografi eccetera poi dopo ha guadagnato la sede dove ha firmato poi le foto le parole con con j tv e poi le foto al museo allo stadio c'è insomma tutto il protocollo tutto il protocollo io però prima di tornare sulla juve attuale vorrei riportare la vostra attenzione su quello che è successo oggi alla roma eh sì perché c'era a roma trastevere amichevole con i dilettanti blindatissima non c'erano telecamere non c'erano giornalisti non c'era nessuno però poi filtrano le notizie o le discrezioni ma le notizie in questo caso si può dire insomma zagnolo non è sceso in campo allora lo so che voi giornalisti siete subito pronti a gonfiare una situazione allora magari è sceso in campo perché non aveva non stava bene fisicamente ci può stare puoi essere leggermente affaticato dici no mister non me la sento non gioco ecc chiaro che però uno zagnolo che non scende in campo con la non so se l'unico o anche altri giocatori che non è trapelato nient'altro che non scende in campo in un amichevole contro dei dilettanti proprio nel periodo in cui si sta parlando di un suo trasferimento possibile trasferimento alla juve è chiaro che questo è una notizia che si gonfia da sola non c'è bisogno di giornalisti per gonfiarla e si gonfia da sola viene naturale no non gioca perché non gioca in questi casi si dice beh perché se non aveva effettivamente qualche guaio perché si vuole evitare che si faccia male specialmente giocando contro dei dilettanti sai il rischio è sempre quello di beccare il calcione in più perché sai comunque i dilettanti si impegnano il doppio perché giocano contro una grande squadra nonostante magari a loro vanno precise raccomandazioni di non fare interventi duri però se vuoi metti in mostra giochi contro la Roma quindi e ma perché si vuole preservare un giocatore da possibili guai fisici da botte da possibili infortuni si vuole preservare da questo perché perché è un odore di uscita e se esce zagnolo è per andare alla juventus quindi diciamo che questo è il studio di zagnolo oggi ha fatto quasi più rumore a livello di mercato o meglio sta facendo più rumore a livello di mercato di quanto non lo abbia fatto la giornata di Pogba perché questa era una cosa metabolizzata scontata è come quando dici la borsa ha scontato ormai le notizie che l'hanno influenzata le ha scontate quindi riparte quindi la situazione Pogba era scontata questa è una cosa nuova questo chiamano indizio chiamano prova non lo so no prova direi di no ma piccolo indizio sì che si è gonfiato da solo si è prodotto da solo si è autoprodotto contestualizzato in questo periodo a questo aggiungiamo le come si dice le indiscrezioni che parlano di una Roma pronta a rivedere un pochino al ribasso la valutazione da 40 data 50 40 45 una forbici di 40 45 che permetterebbe alla juve di praticamente operare una sorta di prestito oneroso 12 15 milioni e il resto a riscatto obbligatorio senza contropartita riscatto obbligatorio ovviamente pagabile in due tre esercizi adesso questo non lo so ragazzi prima dicevo sono solo ipotesi di una situazione che può allungarsi nei tempi adesso non dico più che sono solo ipotesi adesso dico che c'è qualche cosa in più questo non significa che i tempi si potrebbero anche accorciare non significa 100 per cento e zagnolo passerà la juve ma insomma se mettiamo tutto nel pentolone qualcosa tinte bianco nero effettivamente può uscire da questo pentolone cosa si fa in questi casi si aspetta si vede il mercato è strano perché a volte tu pensi che una situazione possa richiedere tantissimo tempo e poi improvvisamente la situazione precipita con il senso positivo o il senso negativo si chiude una trattativa in senso positivo oppure la si esclude definitivamente in un attimo quindi io resto dell'idea che potrebbero esserci ancora dei tempi lunghi che non è assolutamente garantito che zagnolo andrà la juve ma diciamo che le probabilità aumentano anche dopo questa esclusione a meno che domani la roma non ci dica no è stato fuori perché aveva dei problemi ok e i tempi continuo a considerarli però non brevi cioè continuo a considerarli abbastanza lunghi abbastanza lunghi cosa vuol dire siamo al 10 di luglio la juve parte per la tournée il 20 o il 21 c'è la possibilità forse che si sappia definitivamente se zagnolo avviene la juve o no entro la partenza della della juventus per la tournée americana del ict del ict si continua a parlare si è parlato ieri sera si parlato oggi si parlerà molto probabilmente anche domani ma domani noi abbiamo la possibilità di verificare periodisticamente se c'è un altro indizio simile a quello della della assenza di zagnolo la partita tra la roma e il trastevere cioè se del ict sarà domani alle visite mediche oppure no io mi aspetto che ci sia a meno che non succeda qualcosa ecco la famosa situazione può precipitare stanotte stasera notte o domani mattina io mi aspetto che ci sia al traduno e sono anche curioso di vedere come sarà accolto dalla gente non dalla gente la fai la pimenta ma dalla gente che è dietro le transenne non me ne aspetto tanta come oggi sinceramente perché oggi veramente è stata una cosa bellissima da vedere e devo dire che oggi ecco si è rivista quella passione per il calcio da altri tempi quella che vi fa arrivare lì presto la maniera tutti i ragazzi molto giovani che tra l'altro ringrazio perché seguono in tantissimi il mio canale e quindi anche oggi tanti riconoscimenti per il canale personali eccetera e sono cose che riempiono veramente il cuore di chi fa questo di chi fa questo mestiere quindi grazie ragazzi per quello che per come siete comportati anche oggi nei miei confronti così come ieri domani forse non mi aspetto ripeto tutta questa folla ma comunque essendo domenica ed essendoci tanti giocatori che passano mi aspetto sicuramente calore pure domani vediamo se arriva qualche notizia importante intanto iscrivetevi al canale così suona la campanellina e quando parte il video ta 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 vi arriva la notifica e non dovete star lì a cercare e a diventare matti ammesso che diventate matti per il cavale di balzarini tutto questo da dimostrare ovviamente iscrivetevi al canale comunque vi dicevo e naturalmente a domani ciao 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 ciao